La LAV ha realizzato un'inchiesta molto interessante sugli aspetti morali, sociali ed economici della corrida. La videoinchiesta della LAV, la lega antivivisezione in Spagna, ha scoperchiato il sistema fraudolento delle corride, quello che la stessa associazione ha definito uno scandalo. I fondi agricoli europei, secondo l'inchiesta, rappresentano un terzo del reddito totale degli allevatori di tori da corrida, anche se ufficialmente le sovvenzioni sono destinate agli allevamenti di vacche. La tauromachia in Spagna è una tradizione antica più di cento anni e che ancora attira migliaia di persone nelle arene, nonostante l'81% degli spagnoli si dichiari contrario alle corride. La LAV si pone due fondamentali interrogativi. La tradizione che si fonda sulla violenza può essere definita cultura? L'esaltazione della sofferenza può essere considerata spettacolo? Al di là della sofferenza dell'animale, più che evidente in queste immagini, anche oltre quello che sarebbe necessario per la corrida stessa e dell'impatto sui minori presenti nelle arene, l'inchiesta della LAV sviela anche alcuni aspetti economici di consumo, per esempio l'enorme valore di un toro da corrida, in parte perso alla fine dello spettacolo, quando il toro è ormai soltanto carne da macello. L'allevatore se la ride, un toro da corrida può valere anche 80 mila euro e la Ferrari dei tori, dice. Oltre alla sofferenza degli animali, nel mondo della corrida è emersa una vera e propria frode ai fondi comunitari. I fondi comunitari della politica agricola comune, destinati all'alimentazione per le persone, finiscono in realtà direttamente a finanziare il sistema dello sfruttamento della corrida, contro le leggi e contro la volontà del Parlamento europeo. Abbiamo chiesto alla Commissione europea di porre fine a questo scandalo. Un altro aspetto da considerare è la frode sulla carne. Molto spesso la coda di toro, una specialità dei ristoranti spagnoli per turisti, non è esattamente di toro, al massimo di mucca o di manzo, perché il numero di tori al macello non riuscirebbe a soddisfare la richiesta. Se vuoi andare a un ristorante di pido con la toro, hai una alta probabilità di che non sia di toro, sia di vacca o di ternera o lo che sia. L'aspetto igienico-sanitario inoltre non è affatto da sottovalutare di questi tempi, sia nel momento in cui il sangue del toro, ucciso dal matador, resta a contatto con il pubblico, sia per la mancanza di igiene nella macellazione stessa dell'animale. La lava chiede di fermare definitivamente le corride o quantomeno tagliare i sussidi che la mantengono, perché come ricorda lo slogan dell'associazione, la tortura non è mai cultura. Grazie. 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 Grazie.